buongiorno allora video pomeridiano ok ne faccio uno il pomeriggio e uno magari stasera di recap recap facciamo un recap sui nomi che stanno agitando diciamo in queste ore in questi minuti il calcio mercato della fiorentina in questo video parlo di amrabat crescito e laxalt che sono i nomi che in questi minuti stanno sconquassando diciamo il mercato della fiorentina allora partiamo da amrabat il giocatore a ovviamente iscrivetevi condividete attivate il campanaccio perché stasera ulteriore video domani video generale di voto domattina sul calcio mercato di gennaio della fiorentina allora amrabat il giocatore parla già da giocatore della fiorentina dice ci vedremo a giugno praticamente fatto è un buonissimo colpo sono contento finora assieme a cutrone è quello che sono due colpi che mi piacciono diciamo sono quelli che mi piacciono e vi dico che c'è anche un problema di percepito di cui parlerò anche domattina perché leggi i titoli e leggi fiorentina scatenata super fiorentina arriva igor fiorentina non si ferma preso non so contattato goldaniga ma ragazzi scusatemi ma siamo la quinta squadra della storia della serie a per punti conquistati nessuno chiede gli scudetti almeno io non l'ho mai chiesto me ne frego degli scudetti nessuno chiede le coppe ci cago sulle coppe ma una squadra da piazzamento europeo sì e ad oggi colpi definibili come apprezzabili come vi ho sempre detto sono questi sono gli amrabati cutrone quella famosa spina dorsale costruita con giocatori dal costo di 17 20 milioni 6 7 giocatori di sto tipo per permetterti di onorare la tua storia ok questi bisogna apprezzare non i boateng igor i badel i goldaniga ok con tutto rispetto poi si valuterà anche però voglio dire amrabat è una buonissima operazione da fiorentina da quella che è la mia idea di fiorentina ok che non è una fiorentina da metà classifica da transizione ma una fiorentina in stile 2013 2014 2015 2006 2007 una squadra da piazzamenti europei ok non è che ne basta uno ok deve esserci una spina dorsale di gente del genere e su questo ci ragioneremo amrabat in sé di per sé un buonissimo colpo giocatore che mi piace che è diciamo un po l'anima del verona che tutti amiamo e stiamo amando in questa stagione speriamo che finisca l'anno bene e che soprattutto a firenze confermi quello che sta facendo in questo campionato io vi ripeto per mio vezzo non vi costringo a pensarla come me ma per mio vezzo chiamatemi vecchio tradizionalista ma vi giuro che ho anche dei difetti non sono un grande amante degli affari fatti la sessione prima per quella dopo anche per rispetto delle squadre con cui vai a trattare ma capisco che nel calcio di oggi ci sta e capisco chi dice che se lo compravi a giugno non lo pagavi di certo i soldi che l'hai pagato adesso magari quindi ci sta l'operazione amrabat mi piace mi va bene è un'operazione assieme a quella di qua me e magari anche altre che viene fatta secondo me infatti basta guardare a le modalità di trasferimento di pagamento b anche per esempio quel che sta dicendo pedula stanno dicendo altri in questi in queste ore secondo me si va verso la cessione di un pezzo pregiato tra virgolette speriamo sia chiesa o magari di chiesa un milenkovich chi lo sa a giugno e questi nomi vari quame amrabat sono quella spina dorsale tra virgolette fatta acquistata attraverso la cessione di un chiesa e o di altri giocatori quindi questi nomi qua vanno analizzati in quel contesto e capendo che secondo me sono figli di future cessioni detto questo amrabat è una buonissima operazione un giocatore su cui puoi innestare diciamo il centrocampo tuo dell'anno prossimo mi sta bene la cifra ci sta nel senso che capisco posso capire i 20 milioni per amrabat meno i 15 16 non so per duncan ma vediamo anche duncan cosa farà una buonissima operazione speriamo che il giocatore a giugno sia quello visto col verona e quindi bene bene dire è quel quel giocatore da fiorentina con le operazioni alla cutrone volendo alla caceres cioè gente di sostanza sapida diciamo che dà un tono alla squadra che dà una progettualità alla squadra quindi ci sta l'acquisto di amrabat mi piace così come quello di cutrone mi è piaciuto sarebbe sarebbero tutti e due da debarbometro verde assolutamente per quel che riguarda crescito leggiamo che il giocatore non vuole venire a firenze comunque vuole restare al genoa meglio meglio tanto meglio io giocatori che non vogliono venire a giocare nella mia squadra non li voglio già le prime perplessità avrei interrotto tutto avrei detto bene vuoi restare al genoa va bene buona fortuna basta invece ho sentito che da ieri pomeriggio ieri sera si prova a riallacciare si aspetta la risposta già il fatto di dover aspettare la risposta di un giocatore avrei evitato avrei detto va bene se sei indeciso se vuoi restare qua non importa buona fortuna buona continuazione e ciao un'altra cosa che si lega a crescita quella di laxalt perché nelle ultime ore è venuto fuori un interessamento per laxalt ora mi feccherete nel capo ma è un giocatore che piace se vi ricordate un giocatore che avevo inserito nel catto mercato estivo per la fascia di sinistra assieme a cutrone quindi dovesse arrivare laxalt sarebbe il secondo giocatore da catto mercato estivo che finisce in quello di gennaio che è stato un po diciamo cioè molti affari sono stati molti affari estivi sono stati ridiscussi basti pensare a pedro che è andato via boateng che sembra andare via cioè insomma è stato un po mercato di riparazione nel vero senso del termine e di progettazione per l'anno prossimo laxalt a me non spiacerebbe e se dovesse arrivare laxalt penso che si aprirebbe una questione della fascia sinistra perché il ruolo di laxalt è quello cioè non credo venga a fare il difensore centrale bisognerebbe interrogarsi sull'acquisto di igor perché magari igor se dovesse arrivare un laxalt igor sarebbe destinato quantomeno in questa stagione qui a fare il difensore di riserva e laxalt ed albert sulla fascia sinistra per l'anno prossimo dovresti decidere che cosa fare di dalbert per esempio no io vi dico laxalt non mi dispiacerebbe un giocatore che se gli si dà fiducia penso che possa trovare la sua dimensione giusta a firenze conosce anche caceres perché sono compagni di nazionale quindi un affare che mi piacerebbe se non altro perché era un nome che avevo consigliato io e e quindi vi dico io non la ritengo un'operazione prioritaria perché vi ho sempre detto che le priorità mie per questo mercato di gennaio se dovevi farlo erano volendo un centro avanti un centrocampista alla fofana quindi io in difesa laterali non le consideravo e non le considero priorità se laxalt può essere una buona occasione in stile cutrone mi sta bene amrabat è una buona operazione che vi ripeto secondo me va assieme a cua me a darti l'idea di cosa può essere la fiorentina l'anno prossimo per certi versi se dobbiamo considerare molti acquisti fatti quest'inverno come l'anticipo della fiorentina dell'anno prossimo se pensiamo ad ancan cua me amrabat e anche cutrone per certi versi come il futuro della fiorentina dell'anno prossimo di questi me ne entusiasmano due e conservo dei dubbi sugli altri due cioè su qua me da anche anche voglio vedere in azione amrabat per me ci può stare quindi sono contento per amrabat vediamo quale sarà il futuro di chiesa si parla di inter si parla però anche lì per esempio se come dice pedullà c'è odore di inter per chiesa chiesa l'inter andrebbe a fare l'esterno di sinistra se resta conte quindi a maggior ragione sarebbe da farlo giocare c'è da 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 istruirlo tra virgolette già da adesso a far l'esterno di sinistra boh quindi vediamo insomma vediamo cosa succede da qui alla fine della giornata speriamo si ufficializzi amrabat presto di duncan vi ho già detto cosa penso avrei evitato ma vediamo com'è il giocatore qua me vi dico ugualmente che avrei evitato però capisco il fatto che adesso costi poco per carità però onestamente capisco l'esigenza di andare a prendere giocatori che adesso costano poco perché magari poi si rivalutano ma poi io penso sempre che la fretta sia cattiva consigliera spesso capisco amrabat perché è un giocatore di valore due beni di valore qua me siano e duncan non è che mi entusiasmi onestamente vi dico la sincera verità vi dico la sti tutto il bailam di nomi che è girato tra ufficialità e meno in questi ultimi due tre giorni l'unico che mi piace veramente ve lo dico in sincera verità è amrabat e con uno spiraglio aperto per la xalt ma per una mia fissazione personale ditemi cosa ne pensate un caro saluto a dopo grazie a tutti